Per gli italiani quello in corso è l'ultimo weekend per viaggiare da una regione all'altra. Da lunedì sarà possibile solo in casi eccezionali, ma intanto non si registrano grandi flussi né alle stazioni e tanto meno sulle autostrade. Fa fede la stazione centrale di Milano, dove il traffico per il sud è regolare e ordinato. Il nuovo decreto del Premier Conte pone rigidi limiti agli spostamenti nei giorni festivi e nei fine settimana dal 21 dicembre al 6 gennaio. Nel resto d'Europa la musica non cambia molto. I passeggeri che entrano all'aeroporto di Ajaccio in Corsica devono presentare alle autorità i documenti che attestano di aver effettuato il test del depistaggio del Covid da meno di 72 ore. In Portogallo si schiera l'esercito per i controlli in tutto il paese, inclusi quelli nelle case di cura per anziani. Le case di riposo si sono dimostrate vulnerabili in tutto il mondo. Tuttavia i decessi in quelle lusitane rappresentano solo il 30% delle morti per Covid-19 nell'insieme del paese, con 1.705 vittime. Vediamo che anche le forze armate sono preoccupate, che tutto l'esercito si preoccupa del benessere degli anziani. Non ci si preoccupa soltanto per l'isolamento, la mancanza di attività, l'esclusione dal mondo esterno, spiega la direttrice di una casa di cura. In Turchia almeno 9 pazienti Covid sono morti a causa di un apparecchio per la respirazione che è andato a fuoco in una clinica nella provincia sudorientale. L'incidente è avvenuto nell'unità di terapia intensiva Covid-19 del Sanko University Hospital. I casi confermati di coronavirus in India hanno superato i 10 milioni sabato, quando le nuove infezioni sono scese ai livelli più bassi degli ultimi tre mesi. Per noi il vaccino è importante, vediamo che abbiamo superato la barra dei 10 milioni di casi, quindi abbiamo assoluto bisogno del vaccino. In India nelle ultime 24 ore i casi di contagio sono scesi a 25.152, da un picco giornaliero di quasi 100.000 persone a metà settembre. L'epidemia ha contagiato l'1% dell'1,3 miliardi di indiani.